Ciao, bentrovati, state... Mi è sempre piaciuta, mi sarebbe sempre piaciuta l'idea di avere un posto dove poter imparare il lavoro che ti piace, come questo, dove poterlo fare tra l'altro con attrezzature non indifferenti, fatte bene, e quindi è una bella occasione, se non altro, sia per noi di poterci sperimentare nel insegnare, nel passare qualche trucchetto, sia dalla parte di chi, e mi ci metto molto nei loro panni, vuole imparare, perché quando si vuole imparare si è veramente come una spugna, si vuole rubare qualsiasi cosa. Buonasera e bentornati di nuovo in diretta su SkyTG24. Birichino, divertente, tutte le sere fino alle 4, spettacoli live e multi-topless, piano bar, sushi bar e sala fumatori, in ambiente rilassante. Tu c'hai pure una voce un po' profonda, quindi va anche bene. Sicuramente se siete qui oggi è perché la radio è un mezzo che vi incuriosisce, o che comunque pensate possa essere stimolante, possa essere una potenzialità che potete sviluppare in voi stessi. Io vi dico che per molti personaggi del mondo dello spettacolo, della comunicazione, la radio è stata un viatico straordinario. Abbiamo fondato un gruppo di professionisti in questa accademia per formare una figura ben specifica dello spettacolo, quella del conduttore radiofonico e televisivo, e ovviamente le figure che ruotano intorno a queste due figure professionali, come gli autori e, cosa importante, sapete che i conduttori devono curare molto la dizione, quindi ci saranno anche corsi di dizione in questa accademia. Vi faccio scoprire che cos'è l'Art Roma in dettaglio in questo video e vi faccio conoscere soprattutto i docenti. Queste variazioni sono fondamentali. Pronto Peppi, mi senti? Ciao a tutti, sono Francesco Cavuoto, uno dei docenti, dei tanti docenti, se avete visto sul sito internet c'è una lista di nomi più o meno grande così, ma di nomi importanti, e vi accompagnerò tenendovi per mano nell'Art Roma Show. Che cos'è l'Art Roma Show? È uno show, lo dice anche il nome, è uno show che farete tutti voi iscritti, venendo qui all'Art Roma in Roma, in Via degli Scipioni, e sarà un talent dove ognuno di voi si vedrà in televisione e si riascolterà in radio in un'importantissima emittente radio televisiva italiana. Non posso dirvi ancora il nome, ve lo diremo quando sarete qui. Io faccio il conduttore radiofonico, per cui qui sarò insegnante di conduzione, ispirato più che altro sullo sviluppare la propria personalità dietro al microfono. Non mi occuperò dello specifico di dizione oppure di corretta emissione, però cercherò di fare più attenzione su quello che è proprio lo sviluppo della propria personalità. Lasciarsi avvolgere da una magica atmosfera di luce, colori, suoni, dal sapore terrificamente esotico. Stai azziamo, provalo. Di cosa ci parli quest'oggi? Di cosa è successo? Ah, un bel film, dolce, cara poi. Eh dai, su, cosa le regaliamo? Un bavaglio? Abbiamo anche la nostra radice territoriale, quindi se ci scappa una parola in dialetto, se ci scappa un'espressione che troviamo proprio giusta soltanto nel nostro dialetto, facciamolo. Signore e signori, da oggi è data Radio Pernacca. Mi ho stifato abbastanza, grazie. Adesso, dai, viene un'altra o qualcun'altra? La giusta soluzione per occhi ed orecchie, che non si accontentano facilmente. Molti mi chiedono, ma che cosa serve un corso di questo tipo? Fa quello che forse quasi nessun altro propone realmente in Italia, ovvero cerca di dare un indirizzo, di dare professionalità, di dare capacità, anche quei trucchi del mestiere importanti a chi vuole avvicinarsi al mondo della conduzione radiofonica, al mondo di un impegno. Alcuni, secondo me, sono sopra la media, quindi sono in grado, a mio avviso, di fare questo mestiere, cominciando adesso a 20 anni, già a 23-24, di potersi affacciare in realtà importanti. E non sono pochi quelli che sono sopra la media, secondo me. È un modo, come un altro, per farvi mettere a confronto anche con voi stessi. Respira e lascia andare proprio la tua voce. Speriamo a provare a leggere qualcosa? Perché no. È una professione importante, una professione che ormai in Italia ha dato a tanti, tanti giovani, me compreso, quando ero giovane, opportunità di lavoro e di inserimento professionale. È perfetto, non piacciono gli uomini, i cantieri, vero? È una palestra straordinaria, quindi credo che non sia da sottovalutare quanto dalla radio e quanto lavorando in radio si può imparare. Don't forget me, baby, all you gotta do is call. You know how I feel about you, and you don't want anything at all, let me help. If your child needs a daddy, I can help. Good evening. Grazie a tutti.